Questo qua è un monolocale, eh? Eccolo lì! Siamo qua, adesso a girare. Ecco, siamo qui, siamo venuti a vedere per la prima volta, cioè non per la prima volta perché l'ho visto prima di comprarlo, l'appartamento in via Milano, a Rescaldina. Quindi adesso entriamo e vi facciamo vedere l'appartamento. Vediamo se riusciamo a beccare le chiavi. E dobbiamo andare al primo piano. Primo piano. Primo piano o secondo piano. Non mi ricordo più. Eccolo qua, è lui giusto? Allora, primo piano. Così qua. Buongiorno. Buongiorno. Non dico casa. Spot pubblicitario per Gutierrez Capital. Se ti piace questo video, probabilmente vorresti investire nell'immobiliare. Magari affidandoti ad un partner esperto che ti permetta di generare rendite passive e ovviamente completamente slegate dal tuo tempo. Il nostro obiettivo è quello di aiutare le persone a raggiungere la libertà finanziaria attraverso gli investimenti immobiliari. Come lo facciamo? Diamo la possibilità ai nostri partner investitori di finanziare le nostre operazioni immobiliari in cambio di ritorni a partire dal 10% all'anno. Noi mettiamo le competenze, l'investitore finanzia l'operazione. È un gioco win-win se ci pensi. Curioso? Potrebbe interessarti? Compia il foto che trovi qui sotto. In questo modo possiamo contattarti e fissare una sessione su Zoom che ci permetterà di capire se possiamo iniziare un rapporto di collaborazione proficua. Allora questo è l'ingresso, come vedete attualmente la porta non è blindata e abbiamo questa cucina, finestra, ecco qui c'è anche il balconcino, eccola qui. Poi dall'altra parte abbiamo... Michele sei compreso nel prezzo? Michele che è compreso nel prezzo? Allora, quindi questo è il soggiorno. Ok. Andiamo a vedere il balcone. Quello qui. Balcone. Possiamo attendere... Possiamo appendere i panni. Questo è il balcone, vedete? Il balcone è bello grande. Contatore del gas. Questa è la vista da qua. Ok. Torniamo dentro. Ecco. Comunque una... Cioè di luce ce n'è qua, eh. Ok. Questo è il... Abbiamo detto il soggiorno. Quindi da questa parte si entra. Vi trovate subito nella cucina. Ok. Poi soggiorno. Poi andando da questa parte... Vediamo quattro cazzo c'è. Qui c'è un ripostiglio. Ok. Quindi qua si può fare una lavanderia. Ok. Poi qui c'è la camera da letto. Eccola qui. C'è una bella finestra. Ok. Questa è la vista da questa parte. E poi qui... Abbiamo il bagno. Quello qui è il bagnetto. Bagnetto. Abbiamo una bella vasca. Miguel ti vuoi fare la doccia? Eccolo qua. Guardate. Guardate. Cioè ditemi se... Ditemi se non è vero. Questo qua è monolocale. Eh. Giro la telecamera che se no non si capisce. Figa qua è monolocale. No. Lo mettiamo in affitto. Beh. Di quelli che tu esauravano sicuramente. Cioè questo è più... È più grande dei monolocali che compravo all'epoca. Vanno. Va che roba. C'è pure il terrazzo lì. Figa va. Va che roba. Ci hanno lasciato pure il tricic. No. Mica qua facciamo... Bel dormitorio. Tanto i letti ci sono.